Buona domenica dalla redazione del Tg della Mobilità. Novità in arrivo per la linea di bus 649 che da domani prolungherà il proprio percorso da Largo Donorione a Piazza Zama. Più in particolare le vetture seguiranno il consueto itinerario dalla stazione Tiburtina a Via Albalonga. Poi i bus in direzione del nuovo capolinea di Piazza Zama transiteranno su Via Ceneda e Via Emera, mentre in direzione della stazione Tiburtina da Piazza Zama percorreranno Via Emera e Via Etruria per poi riprendere Via Albalonga. Gli orari delle prime e delle ultime partenze dai capolinea nei giorni feriali e festivi saranno alle 5.40 e alla mezzanotte da Piazza Zama, alle 5.30 e alla mezzanotte un quarto dalla stazione Tiburtina.